non c'è nessuno quest'anno che non si sia accorto che è arrivato l'autunno acqua evento anomali continuano a darci messaggi che sottovalutiamo confidando ciecamente nel predominio dell'uomo sulla natura vivendo in campagna questo progressivo ma inesorabile cambiamento si sente maggiormente ed è testimoniato dall'ambiente naturale che ci circonda e l'attenzione costante appassionata ti fa innamorare perdutamente della natura abbiamo imparato il significato reale della parola rispetto l'importanza della cura la generosità del proprio tempo e l'impegno non venale verso animali e piante è arrivato l'autunno il parco chiude la stagione per quanto riguarda le visite ma si appresta come sempre ad affrontare i mesi più difficili i cuccioli dell'anno stanno crescendo e già sappiamo che saranno accuditi con qualche coccola in più rispetto agli adulti questa oasi di natura la stiamo costruendo anno per anno non è perfetta è faticosissima da gestire ma è il progetto di due giovani sognatori di 40 anni fa e continua ad essere un bel progetto per due giovani di oggi un ringraziamento va a voi che ogni anno ci date la possibilità di migliorare arrivederci alla primavera prossima